Parliamo ora della Trieste Uppicina Historic 2016. Da oggi fino a domenica a Trieste Uppicina e sul Carso Triestino e Goriziano saranno di scena le auto storiche nella manifestazione organizzata dal Club dei Venti Allora. Domenica 3 aprile la gara di regolarità con partenza dal Museo Ferroviario a Campo Marzio sul tracciato della vecchia Trieste Uppicina, mentre l'inaugurazione è oggi alle 18.15 alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio. Sebastiano Franco. Una Cis Italia 202 del 1949, un Alfa Romeo Giulietta Spider veloce del 1961, una Lancia Ardea del 1949, un Austin Healey del 1956 e una Fraser Nash Boulogne Supersports del 1927. Sono cinque tra gli esemplari d'auto d'epoca pronte a far ruggire i motori della Trieste Uppicina Historic, la gara di regolarità per vetture storiche organizzata dal Club dei Venti Allora di Trieste che rievoca la Trieste Uppicina disputata tra il 1911 e il 1971. La manifestazione celebra due anniversari, i 105 anni dalla prima Trieste Uppicina e i 55 dalla fondazione dei Venti Allora nella primavera del 1961. Le celebrazioni quest'anno toccheranno anche spessa e rivolto. Le celebrazioni iniziano di fatto alla base di rivolto, la base delle frecce tricolori. Nel corso di una visita che noi faremo alle frecce tricolori, si coglie l'occasione di questo compleanno per festeggiarlo assieme alle frecce tricolori perché anche loro sono state fondate nello stesso anno e molto gentilmente ci permettono di prendere questo via ideale della manifestazione dalla loro base mentre il via reale avviene poi alla sera al Porto Vecchio di Trieste davanti alla centrale idrodinamica alle ore 18 e 15. La regolarità automobilistica è l'antessignana dei rally. Di fatto si tratta di percorrere dei percorsi misurati di una certa lunghezza, di tot metri in esattamente un certo tempo che viene misurato al centesimo di secondo quindi non al decimo e non al secondo ma al centesimo. è una cosa molto difficile perché uno deve sapere esattamente quando il pneumatico batte sul pressostato e diciamo che è un po' arcano per gli spettatori perché si vedono le macchine rallentare molto, poi accelerare di colpo. Stiamo cercando di trovare il modo di rendere televisivo questa disciplina e ci riusciremo probabilmente facendo delle riprese dall'interno.